Miglior studente di sempre! Sì! Ehi, ragazzi! Scusatemi! Sono serio? Di nuovo? Grazie! Ragazzi, questo è il nuovo miglior studente! Sono io! Aspetta, dove state andando? Ora vedremo chi vincerà! Molto meglio! Glielo manderò per posta! Ragazze! Aspetta! Oggi consegneremo questa torta a Ruby! Quella torta me la merito io, non tu! No, dammi! No, è mia! Oh no! Oh no! In punizione! Tutte e due! Ora sono a casa mia! Mi manchi così tanto! Ehi, perché stai in piedi? Rilassati! Ok! Cosa dovrei fare qui? Questi aiutano sempre! Che noia! Forza ragazzi! Forza ragazzi! A! D! B! D! E! D! S! D! 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 Aula posizione! Non sono mai stata qui di notte! Sembra proprio che staremo qui per molto tempo! Rilassati! Non avrei dovuto mangiare quel cioccolato! No, per favore, non adesso! Ti sono mancato, vero? Guarda dove vivo io adesso! Dobbiamo trovare una via d'uscita! Sì! Dobbiamo trovarla! Oh! Ci sono! Cominciamo! Fatto! Piano di fuga! Finalmente! Fatto! Andiamo! Dobbiamo andare lì? No! No! È da questa parte! Bene! Forza! Ups! Pensa, pensa! Devo pensare a qualcosa! Sì! Non funziona! Forse questa può aiutare! Esatto! Spostati! Che noia! Che c'è? Ci sono! Cosa stai facendo? La mia unghia! Oh no! Le mie bellissime unghie! Finalmente! Vai via! Guarda! Ma certo! Sei bene! Forza! Tu, aiutami! Come va? Ehi! E' io! Vieni! Stai! Dai! Più veloce! Più veloce! Per di qua! No! Per di qua! Cos'è stato? Oh! È solo una pianta! Devo andare in bagno! Il mio ragazzo mi salverà! Che schifo! Cos'è successo? Il mio telefono! Uno! Due! Tre! Per te! Grazie! Mi hai salvato la vita! Andiamo! Ufficio del Presque! Guarda! Oh no! No 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 no! No! Oh no! Oh no! Oh wow! Oh! Osservami! Ragazze! Pulizione! Guarda! Che cos'è? Vediamo! Vediamo! Sì! Buongiorno! 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 Tu! E tu! Pulizione! E tu! Oh oh! Oh! Cos'è successo? Che ore sono? Oh! Oh! Andiamoci in a casa! Oh! Certo! Ok! Ciao! Oh! Oh! Mi manchi tesoro! Oh! Mio dolce tesoro! Oh! Oh! Che strana ragazza! Ciao, tesoro Vorrei che tu fossi mio Che cosa? È mio Tu, vai via È il mio succo E cosa? Tieni il resto Un hamburger d'oro come vorrei assaggiarlo Dio mio, sei così povera Prendi Voglio tutto Eccoti Grazie Ragazze, attenzione Sorprendetemi con le vostre abilità culinarie Salve La mia ragazza sarà chi mi preparerà una torta Cibo da Ricky? Ancora? Mangiamé Mangiamé Oh, sì Cibo da Ricky? Sono così affamata Ci sarà del cibo da qualche parte Trovato Buono Che noia Sul serio? Proprio oggi? Devo vincere questa competizione Magari questa? No Questa Ma è troppo costosa No Voglio Questa Wow I segreti della nonna Libro, dammi la tua migliore ricetta segreta Che cosa? Una torta di mele Ok Allora farò una semplice torta Così a buon mercato Ora va meglio Troppo costoso Sì Mi servono le uova Che ho viste prima io Non credo proprio Ottimo lavoro Andiamo Sì Sì, proprio così Bene Più veloce Più veloce Guarda come sono forte Finalmente Wow È fantastica Eccoci qui È ora di decorarti Che cosa? Non dimenticarti Sei così carina? No, 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 no Ma Deliziosa Che cosa? Wow C'è mancato poco Su Oh No, no Accidenti Mi serve una torta meravigliosa Noiosa Proprio quello che mi serve Wow Non aspetterò Andate via Prossima Assaggia questa Wow È gustosa Ma questa è migliore Wow Sbarazzatene Il sapore è molto Molto delizioso Ok Andrete entrambe al prossimo round A funghiere pizza Questa è per lei Wow Un hamburger Mi piacciono i vostri hamburger Mua Fatevi abbracciare Ragazzi Guardatevi Vi siete sporcate Sei sporca Ed io allora Sei sporca Forza ragazzi Scusate ragazze Preferisco lei Che cosa? Andiamo cene di qui Aspetta un attimo Piano B Un'altra cucchiaiata Un'altra cucchiaiata Aspetta No Un'altra cucchiaiata Ah Um Ciao!